musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi abbiamo un sacco di roba interessante di cui parlare tanta roba veramente leakers estremo leak estremi su quello che riguarda ragazzi i prossimi giorni di fortnite anche oggi ragazzi in collaborazione con i nostri amici di fortnite italy gruppo telegram relativo alle news e alle informazioni mi raccomando seguitelo link in descrizione oggi ragazzi nel video parleremo di alcuni simboli strani ve ne avevo già parlato un po di giorni fa per chi non l'avesse visto li rivediamo un secondo perché avranno sicuramente parte integrante in questo end season 7 si ragazzi parlo già di end season perché oramai stiamo già per entrare nella sesta settimana della stagione vedremo anche ragazzi degli oggetti esclusivi che sono presenti nei file di gioco ma non sono ancora stati rilasciati ufficialmente vi faccio vedere delle cose interessanti davvero da paura e ovviamente non mancheranno ragazzi un bel po di leaks interessantissimi per tenervi ta 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 aggiornati in tempo reale con tutto quello che succede nel mondo di fortnite mi raccomando ragazzi però prima del video daie un bel pollicione in su raga forza che lo so che ce la fate iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento ma la domanda è lo sapete che io le leggo le vostre risposte non è che non le leggo qua nei commenti ragazzi vi faccio la domanda mi raccomando rispondete qua sotto nei commenti qual è la vostra skin di livello 100 preferita ovviamente c'è incluso anche il cavaliere nero non c'era in queste immagini che ho trovato mi sembrava meravigliosa la mia ragazzi non avendo il cavaliere nero la mia preferita è il ragnarok mi piace anche l'uic ma il ragnarok è tanta tanta roba scrivetemi la vostra ragazzi qua sotto nei commenti e quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a pro suiuder subito così a farmi vedere i codici si ragazzi sono state trovate le sfide della settimana numero 6 c'è gente ancora che non ha finito quella della settimana 5 noi abbiamo invece già quelle della 6 ragazzi e come vedete allora sappiamo che dobbiamo fare delle kill con gli esplosivi dobbiamo fare una serie di kill in base alla rarità dell'arma che prendiamo ovviamente la prima fase è quella della dell'arma comune quindi la grigia abbiamo anche le kill da fare sembrerebbe con i fucili a pompa shotgun non sappiamo ancora dove dovremo cercare i chest perché invece sappiamo di avere anche questa sfida e abbiamo ragazzi un argomento interessantissimo le ultime due righe ragazzi parlano della freeze trap quindi use freeze trap adesso ragazzi io qua sono assolutamente affidabili queste sfide che vi faccio vedere ma vuoi dire che c'è la probabilità che magari torna la trappola congelante nel battle royale cosa che se non ricordo male non c'è in questi giorni almeno io non la sto non la sto trovando potrebbe esserci un grande ritorno ragazzi anche perché ragazzi andando avanti questa è cattiva raga questa è cattiva queste ragazzi sono le sfide di cui vi ho appena parlato ma ancora più nel dettaglio e vi dico di già che avremo come fase tra le sfide di usare delle armi per fare le kill fase 1 con le mitragliette fase 2 con i fucili d'assalto e fase 3 con le granate le clinger non dico niente non dico niente perché non so queste clinger da dove cavolo le hanno tirate fuori le granate appiccicose o le stink bomb staremo a vedere ragazzi staremo a vedere sappiamo anche che tra le tra le sfide ci sarà anche quella di atterrare in due posti diversi il primo sarà picco polare tilt e tower poi ci sarà a prodo avventurato e corso commercio e poi ci sarà lazy link che è passatempi pomposi e shifty shaft che è andiamo avanti ragazzi e parliamo me lo ricordo non me lo ricordo in inglese parliamo invece ragazzi della schermata di caricamento della settimana numero 6 ragazzi è qua dietro di noi ed è una schermata oltre che meravigliosa che ci mostra la skin quali si chiama asgadar come si chiama che ha in mano come vedete ragazzi un oggetto molto molto interessante questo oggetto come vedete è ovviamente un panozzo del durburger e credo che la location in cui sia ambientata questa immagine dovrebbe essere corso commercio come vedete ragazzi dietro abbiamo ovviamente il dipendente del durburger il surgeon griller che ha in mano un panino e c'è anche ragazzi una skin non ancora rilasciata che tutti però conosciamo almeno io ve l'ho fatta vedere un paio di giorni fa che è la skin in versione femminile della versione maschile della ps plus l'ultima skin che ci hanno dato il nerd in poche parole ragazzi come vedete ragazzi la cosa che ci interessa di questa immagine è proprio il panino che tiene in mano onisi onisi si chiama se non ricordo male la tizia dovete sapere ragazzi che questo panozzo esiste davvero nei file di gioco questa è un'immagine che vi sto dando ovviamente i colori sapete sempre sono quelli che sono ma questo panino anche se non ve lo ricordate ve l'avevo già fatto vedere è presente nei file di gioco sotto la sezione dei consumabili quindi ragazzi non sappiamo quando arriverà potrebbe arrivare appunto con l'update con l'ultima parte dell'update 7.10 o addirittura con il primo update ufficiale dell'anno fatto dal team di sviluppo di epic games che è tornato appunto dalle vacanze sicuramente si è già messo al lavoro ma andiamo avanti ragazzi e c'ho i codici oggi c'ho i leaks vi aggiorno ragazzi se avete visto il mio video di ieri questa è la tabella di tutti gli oggetti tutti gli oggetti esclusivi che ci sono stati dati nel periodo natalizio periodo che terminerà appunto il 6 gennaio anche se in realtà hanno già tolto gli alberi di natale e tutte le cose relative bass della battaglia compreso ma come vedete ragazzi con l'uscita di ieri mattina della skin pie glaciale e del suo piccone rimangono tre righe rosse quindi tre elementi che non sappiamo quali siano o forse lo sappiamo ragazzi beh noi sappiamo ragazzi che nei file di gioco sono presenti ancora tre picconi che non sono stati rilasciati il primo è questo non saprei bene che cosa dire perché sembra un mini un mini razzetto con due reattori dietro e una è una leva da tirare il secondo è questo e questo lo voglio assolutamente perché troppo sbarzandle una pala con gli spuntoni con l'occhio centrale tanta tanta roba veramente gg e il terzo ragazzi è questo non sappiamo assolutamente se siano questi i tre elementi che mancano nella lista di oggetti esclusivi per il periodo natalizio io ve li faccio vedere da buon leakers che sono ragazzi poi ovviamente starà a voi scegliere se tenervi i vbucks e andare a prenderveli ma andiamo in chiusura ragazzi facendovi vedere questa immagine interessantissima che parla proprio di tutti i metodi con cui si possono modificare i muri mi è piaciuto davvero tanto che ho voluto portarvela magari ragazzi c'è un metodo che non conoscete magari sapete li sapete tutti di certo è molto molto interessante perché come vedete le combinazioni sono 14 quindi con un unico muro ragazzi potremmo possiamo fare la finestra centrale la porta e sono i più classici io personalmente non sapevo il numero 5 se noi facciamo una riga dritta andiamo giù dritti e andiamo ancora dritti così creiamo un muro con due finestre io non lo sapevo vabbè che sono ignorante c'è quello con i quattro quadratini che ti fa la mini porta e il muro spezzato e insomma ci sono un sacco di alternative che possiamo utilizzare oi ninja che possiamo utilizzare per il muro dai parliamo al volo del ninja che manca un pochi secondi ve l'ho spoilerato ragazzi il signor ninja ragazzi durante un suo streaming dice queste parole mentre parla con un ragazzo che sostiene di essere deriso dai suoi compagni di classe perché stima ninja come streamer lui dice se ti stanno prendendo in giro perché ti piace qualcosa che a qualcun altro non piace non sono tuoi amici sono sicuramente persone che ce l'hanno con te non devi mai lasciar perdere il tuo gusto e la tua opinione e chiude dicendo se tu per caso sei fan di una band e la gente ti prende in giro perché non ascolti quella band perché ascolti quella band e tu cosa fai smetti di ascoltarla assolutamente no quindi ragazzi si dimostra ancora ninja oltre che un bravo streamer anche sicuramente una persona che può dare saggi consigli ai suoi follower beh ragazzi il video per oggi è arrivato alla fine io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao ciao